Una giornata fredda e uggiosa accoglie i due undici in campo per un match all'insegna della tristezza per quanto accaduto al povero Astori. Un minuto in raccoglimento sentito e vissuto con partecipazione da chi fa parte del carrozzone che spesso diverte, ma a volte purtroppo si trova costretto a piangere i suoi giovani eroi calcistici, ma soprattutto esseri umani che da oggi non sono più, nella speranza che siano altrove e che continuino a guardarci con occhio benevolo e affetto per chi ha amato questo mondo così patinato, ma che a volte sa essere anche altrettanto genuino. E così la vita va avanti e con essa anche lo spettacolo odierno che sembra essere solidale con la causa di Astori e così semplicemente si annulla almeno nei primi 45 minuti di gioco. Ma noi proviamo a riprendere il filo del discorso entrando più compiudamente in cronaca con quest'azione che cade al settimo e vede Mercogliano, bravo ad intercettare il pallone, meno nel dispensarlo a dovere. Un beffardo palo vanifica così il tutto e quanto segue invece oltre la linea del fuorigioco come certificato dall'assistente. Partita che potrebbe decollare visto che quattro minuti più tardi anche gli ospiti si danno una mossa e pizzicano con Bruno, fermato sul primo palo da un attento Carnevali. Siamo appena all'undicesimo eppure nel resto del primo tempo non succede più nulla. La ripresa fortunatamente ci scuote quasi subito al nostro torpore invernale, più vicino all'ibernazione che all'apatia. Sarà forse merito della pioggia che arriva in corso d'opera durante il secondo tempo, ma già al primo gli ospiti possono recriminare per l'imprecisione di Nintè, che da buona posizione calibra male il piattone che termina così al lato della porta locale. Scampato pericolo marzicano e tocca ora a Paris rendersi pericoloso quando siamo al terzo, è una strana traiettoria. Proveniente dalla fascia sinistra costringe Marco Nato a smaracciare in tutta fretta salvandosi in angolo. Quindi al nono un beffardo e prolungato flipper nega l'expendenza e a tutto l'undici va stese una rete che sembrava cosa fatta e invece potete vedere voi stessi come è andato a finire. Legni a Gogò, un fastidioso déjà vu per gli ospiti ancora con l'ex di turno pendenza, pizzicano di nuovo il palo all'undicesimo e recriminano con la fortuna. Ma il conto da saldare con la dea bendata sarà ben più sostanzioso per i ragazzi gallucci che intanto tremano al tredicesimo quando su uscita avventata del loro estremo vedono Bolzan andare a centimetri al vantaggio che comunque arriva dieci minuti più tardi quando un taglio per l'eccese si conclude con un assist per il giovanissimo neo entrato di Francescantonio che colpisce di testa per l'1-0 Palentino. Prova una reazione la compagine ospite ma l'unica occasione che ne viene fuori è questa mezza topica di Carnevali che si salva comunque in angolo. Trentaseiesimo, rigore in movimento per Bolzan ma Marco Nato tiene in scia i suoi con un brillante intervento di piede. Scampato pericolo quindi è quasi gol rosso-blu al quarantaduesimo quando sugli sviluppi di un calcio di punizione progna in zucca di poco a lato. Il pari è nell'aria ma arriva nella maniera più inaspettata 60 secondi più tardi quando l'estremo di casa scherza con il pallone calciato da 40 e rimane buggerato alla grande per un pari che sembra definitivo. E invece proprio all'ultimo secondo di recupero un fallo di confusione con atterramento finale di Berardi porta sul dischetto Leccese che sul triplice fischio spiazza Marco Nato e regala tre punti con lontana vista play-off per i Granata. Al cupello, deluso dal brusco risveglio, non rimane che lecarsi le ferite, riordinare le idee e andare a cercarsi i punti salvezza a cominciare da domenica prossima. Dopo partita con mister Carlucci che è ovviamente estremamente deluso. Sono deluso sì, se andiamo a realizzare la partita mi diceva lei tre palle, io ne ricordo due, due o tre volte la palla sulla linea, se non facciamo gol è una squadra che si deve salvare con tre quattro palle e così nitide e triste. Poi mettiamoci pure che l'avamo rimessa dentro col pareggio, l'arbitro ci ha dato un rigore al 94esimo e quindi siamo adesso qui a commentare una sconfitta immeritata, i ragazzi non so che cosa dirgli. Ecco, solo un po' più di attenzione che si poteva portare a casa. Ci stava stretto il pareggio, figuriamoci la sconfitta. Fabio, oggi c'è una partita strana? È normale, partita strana, ma alla fine le ultime partite sono tutte partite tirate, fino alla fine, è chiaro che il Cupello è venuto qua per fare risultato, noi volevamo fare risultato, quindi è uscita una bella partita, poi purtroppo alla fine gli episodi hanno determinato il risultato. Primo tempo brutto, inguardabile da ambo le parti, diciamo, in poche occasioni. Il secondo, un avvio traumatico a forza di palli per loro e alla distanza siete usciti invece. Primo tempo è stata una partita molto tattica, nessuno e due voleva prendere gol. Poi al secondo tempo noi abbiamo cambiato qualcosa, loro hanno avuto la possibilità di fare gol 1-0, poi diciamo che dopo la sostituzione dal vendesimo in poi penso che per se c'è stato solo Capistrello, quindi alla fine il risultato forse è stato pure meritato. Noi abbiamo visto che toglie il pareggio con l'ingenuità del portiere nostro, però ci sta.